Amici, Belmonte e Piceno, un piccolo centro del Fermano, dove l'arte coltadina della civiltà contraddistingue questo territorio in maniera incredibile. Nonno, padre e figlio hanno lavorato in campagna di Eros, Scarafoni che ovviamente insieme a Somoglierma gestiscono questa azienda agricola che credo sia conosciuta in tutto il mondo per la bontà dei formaggi e per l'allevamento di capre e di mucche da latte. Oggi con questo problema sanitario invitiamo tutte le marche a venire ad assaggiare i formaggi perché ovviamente si può rispettando le leggi entrare due persone e altri possono aspettare fuori, tra l'altro una campagna meravigliosa quella di Belmonte e Piceno e godersi la simpatia e la bellezza bucolica delle caprette che abbiamo qui davanti e delle mucche della stalla insieme agli operai che lavorano e questo ci serve per rendere una giornata allegra, spensierata e lontano da tutti i problemi attuali.